Buonasera a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati, allora sono veramente gasatissimo perché è appena terminata la stagione 07 su MFL e in questo video cosa andremo a vedere? Andremo a vedere come è andata questa stagione, come ho fatto a guadagnare una barca di MFL è stata veramente una stagione di successo e sono veramente veramente contentissimo perché è stata anche la mia prima stagione quindi questo mi fa capire che l'approccio alla fine è stato molto molto buono e ci sono stati anche degli errori che mi sono costati ad esempio il primo posto praticamente facendomi classificare terzo, ci sono stati dei piccoli errori che cercherò di non fare nelle prossime stagioni ma come prima stagione alla fine i programmi e le idee che ce ne avevamo prefissati all'inizio di questa stagione alla fine io vi posso ritenere soddisfatto portando a casa circa 5000 MFL come ho fatto a vincere tutti questi MFL lo scopriamo in questo video dopo la sigla eccoci qua approdiamo subito nella home page del mio profilo dove in risalto ci sono subito i miei top player e in basso ci sono qui Ginga e Interdigital vi ho tenuto partecipe delle mie idee da inizio campionato da quando abbiamo visto la timeline di questa stagione con qualche trucco per l'algoritmo, qualche trucco per riuscire a beccare il girone giusto abbiamo parlato dei prestiti se dare o non dare i top player in prestito abbiamo visto le partite analizzato modulo tutto questo sembra passato un'eternità invece è passato soltanto circa un mese ed è stato un mese devo dire ricco 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 di emozioni ricco di veramente di tantissime tantissime esperienze fatte in questo gioco che sicuramente porteremo a casa e ci renderanno sicuramente più preparati per le prossime stagioni e le condivideremo sempre su questo canale quindi non dimenticate di iscrivervi in modo tale che vi arriveranno le notifiche vi ricordo che c'è anche una playlist dedicata a MFL quindi se volete andare a rivedere qualcosa della vecchia stagione per rubare qualche idea, per rubare qualche informazione andate pure, andatevi a rivedere, sono tutti nella playlist MFL adesso basta chiacchiere andiamo al dunque subito il primo pezzo forte di questa stagione è qui nei 5000 qualcosa già avevo quindi circa 5000 MFL vinti ma come si fa a vincere 5000 MFL con due squadre entrambe in divisione 7 beh, allora sicuramente un po' di strategia anche nelle squadre nella costituzione delle squadre aver ragionato su come volevo impostare queste due squadre lo scopo diverso di queste due squadre squadra ginga comprata al termine della stagione 0-6 proprio per lo scopo di una squadra farm MFL ne abbiamo parlato e ne riparleremo ancora in questo video ma soprattutto la maggior parte ma la maggior parte di quegli MFL arrivano da questi due fenomeni qua su da Polak e da Wozniuk i miei due top player che sono andati in prestito in divisione 2 in divisione 3 e come vi dicevo nel video hanno dato veramente veramente dei frutti incredibili allora io inizierei parlando prima dei giocatori per farvi vedere praticamente subito gli MFL da dove arrivano poi ci spostiamo sulle squadre le analizziamo e rispiego un'altra volta la differenza tra queste due squadre e qual è lo scopo di queste due squadre una differenza che cercherò dato che ha funzionato come sistema cercherò di mantenere anche per la prossima stagione rivedendo qualcosa e impostando qualcosa eventualmente eliminando qualche errore che ho commesso ma ne parleremo sempre in questo video allora vi voglio far vedere subito tutti gli MFL allora siamo qui ok l'ultimo uncommon pack quindi da qui in su sono tutti i premi che mi sono arrivati oggi primo agosto 2024 una valanga una valanga di premi allora vi dico subito che giocatori magari quelli più scarsi che non prende nessuno anche a una misera percentuale piuttosto che tenerli svincolati e free agent dateli ad esempio in ice Ramos dato allo 0.3% al Santi Cosmos anche questo ha dato i suoi frutti ha portato a casa 4 MFL perché si è classificato secondo mentre per esempio questo all'1% nel Waterloo ha portato a casa 11 MFL stiamo parlando di giocatori che vanno nella divisione 9 nella divisione ice non ci si può aspettare grandi numeri perché i numeri sono per due crescendo di divisione quindi si presume che quella squadra se fosse arrivata seconda e terza sarebbero stati molti più punti nelle divisioni successive nelle divisioni più alte e ovviamente i giocatori più forti non li mettiamo in ice perché i premi sono più bassi cerchiamo di mantenerli già dalla dalla bronzo in su dalla 8 dalla 7 regolatevi in base a quello che vedete sul mercato sappiate sappiate che il mercato impazza l'abbiamo visto in questa stagione e quello che vi dico è quello che io ho visto in questa stagione impazza totalmente all'apertura con delle percentuali veramente esagerate quindi si può anche pensare di aumentare lasciarsi lasciare i percentuali un po' più alte poi pian piano diminuire perché tanto i giocatori buoni vanno via i giocatori più scarsi bisogna accontentarsi e piuttosto che tenere lì portano 11 MFL 4 MFL non fa niente non fa niente è sempre qualcosa la parte importante arriva con Interdigital cioè la mia squadra che è il terzo posto mi ha fatto guadagnare 795 MFL che è una cifra bella grande bella grande come prima stagione io sono sono strafelice è vero che c'è la mano in bocca poi lo vediamo dopo magari nel dettaglio nella squadra perché sono stato primo fino alla terz'ultima partita e poi ho perso due partite praticamente che c'è roba da proprio da mangiarmi le mani però purtroppo questo è il gioco e fa parte del gioco quindi 795 terzo posto Interdigital poi salendo su con Ginga che è l'altra squadra nono posto mi porta a casa 420 MFL ma la cosa fotonica inizia inizia qui io adesso zoom un po' perché probabilmente non si legge bene ok allora la parte interessante inizia qui dove il giocatore il top player che vi ho fatto vedere prima che è andato in platinum ok mi porta a casa solo lui con l'ottava posizione nella platino 860 MFL questo è il discorso che vi facevo nel video in cui analizzavo i dati andate a rivedere perché c'è una tabella in cui si parla di numeri in cui facevo vedere che se una squadra in platino arriva prima arriva ultima guadagna di più già se vinci il campionato io qui stavo parlando di una percentuale veramente veramente bassa vediamo qua stiamo parlando del 4% il 4% in platino 8 ottavo posto 860 MFL è tanta 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 roba quindi i giocatori forti conviene tenerli e puntare alla gloria oppure mandarli via il giocatore questo giocatore qui se io l'avessi avuto nell'inter digital non sarei arrivato terzo sarei arrivato primo e avrei guadagnato 850 punti 1200 tolto praticamente i le percentuali che vanno via un millino di MFL ma io per 200 MFL cioè vado a privarmi di questa occasione di portarmi a casa 860 MFL con un solo giocatore un solo giocatore praticamente ti porta il risultato di un'intera squadra a casa quindi si conviene nel bronzo non conviene tenere questi giocatori blu conviene mandarli in prestito ora con questi numeri qui a portata di mano lo posso dire lo posso confermare i giocatori praticamente vanno vanno dati in prestito quelli blu non possono giocare in ottava divisione è uno spreco è uno spreco poi se volete puntare alla gloria il gioco è vostro ovviamente ognuno fa il suo gioco ognuno si diverte a modo suo ma qui bisogna puntare agli MFL perché sono gli MFL che poi ci fanno acquistare altri giocatori come è successo con il terzo blu che mi è arrivato in corso d'opera grazie agli MFL che ho acquistato il pacchetto blu quindi ti ritorna un altro blu che poi dopo puoi dare in prestito quindi ulteriore MFL e aumentare il numero di MFL che rientrano ogni stagione stiamo parlando di ancora le classifiche sono bloccate quindi non ci sono promozioni retrocessioni e quant'altro quindi l'unico modo per guadagnarne veramente tanti è arrivare a quando apriranno con un vero numero di giocatori e lì veramente cominceremo a ragionare sul metterci riprenderci di noi i giocatori forti poi c'è da considerare che verrà implementato il miglioramento dei giocatori i giocatori forti quelli blu nelle squadre più scarse migliorano meno un giocatore del genere che gioca in platino sarebbe migliorato molto di più e quindi questo qui è il primo poi c'è c'è un altro giocatore che è andato in gold quindi uno step appena più basso settimo e mi porta anche lui a casa 330 MFL quindi due giocatori insieme mi portano di più quasi di più di due squadre intere quindi per questo ma non è finita qui perché non mi hanno portato solo questi MFL poi ci sono i vari giocatori vabbè qua abbiamo alcuni giocatori che sono miei che li ho dati in prestito a me stesso a una percentuale più alta perché mi scocciava togliere e rimetterli dal prestito automatico qua 27 con il Bokabool comincia a diventare anche qui con il Bokabool che è in si è sempre in aspirare nelle coppe ok quindi qui si entra nelle coppe in base alla posizione nelle coppe c'è questo giocatore che aveva il 6% lui è arrivato ai quarti di finale e mi ha portato 27 Ginga Ginga è arrivato praticamente sono arrivato ai quarti di finale con Ginga e ho portato a casa 344 MFL un'altra cifra un'altra cifra veramente veramente importante mentre con Interdigital sono arrivato agli ottavi e ho portato a casa 477 MFL e qui parte un'altra osservazione un'altra grande osservazione che è il discorso della coppa inizialmente con Interdigital ho fatto un po' di di cambi in corso d'opera sono partito con l'intenzione di giocare con due moduli 4-4-2 e 3-5-2 poi praticamente in corso d'opera ho scoperto che il 4-3-3 di avere dei giocatori veramente portati per il 4-3-3 quindi molto spesso ho alternato 4-4-2 e 4-3-3 il 3-5-2 non mi ha portato i frutti che mi aspettavo e quindi non ho potuto fare il discorso che avevo immaginato io di far riposare i terzini con il passaggio del modulo a tre difensori quindi questo che cosa mi ha portato mi ha portato a dover fare delle scelte in coppa un po' un po' più scellerate quindi dove ho dovuto per far riposare per puntare al campionato perché ero sempre sono sempre stato dalle prime posizioni e ho dovuto praticamente fare del turnover in coppa ho avuto una qualificazione proprio all'ultima giornata con un citone veramente quasi tutti i pari punti e quindi devo dire sono arrivato agli ottavi di finale e ho portato a casa 477 puntare sulla coppa si l'anno prossimo voglio puntare anche la coppa perché la coppa comunque fa guadagnare un bel po' di MFL e quindi ci si deve puntare poi se si è sfortunati che non si va avanti è un altro discorso ma la scelta deve essere fatta l'anno prossimo per i giocatori un turnover molto più ragionato e qui poi dopo arriva il bello un'altra parte bella ed è praticamente lo stesso giocatore che è che è stato in platino è arrivato agli ottavi di finale con la sua squadra in platino questo mi ha fatto portare a casa altri 420 MFL quindi un solo giocatore Vaz Nuke che è veramente una bomba è un esterno sinistro esterno destro attaccante con velocità 70 dribbling 85 difesa passaggio 83 quindi uno di quei classici di quei classici esterni che dovrebbero fare una valanga di assist e mi hanno portato a casa un bel po' un bel po' di MFL quindi ragazzi questo qui è la parte dove praticamente analizziamo il discorso MFL spero di aver fatto un po' un bel po' di chiarezza e di avervi aperto la mente sulla scelta di dare in prestito o non dare in prestito e sul discorso di quarti di finale ottavi di finale di coppa quindi puntare o non puntare alla coppa alla coppa ci si deve puntare ci si deve puntare quindi l'anno prossimo sicuramente mi impegnerò sicuramente di più per avere dei risultati superiori dei risultati migliori anche nelle coppe allora vi faccio un piccolo riassunto dello scopo di queste due squadre Inter Digital essendo che io sono interista ho creato questa squadra che è l'intento di fare un club digitale dell'Inter con l'obiettivo sempre di puntare al massimo in questa squadra ho gestito la squadra con l'intenzione di dare il 50% ai prestiti quindi il 50% di quello guadagnato praticamente va ai prestiti e l'obiettivo è cercare la gloria quindi avere i giocatori più forti concentrare i miei giocatori più forti qui e puntellare la squadra dove c'è qualche mancanza dove manca qualche turnover con i prestiti nel frattempo durante questo campionato ho spacchettato tantissimo con gli MFL vinti degli europei e quindi penso che l'anno prossimo il numero di giocatori miei aumenterà e quindi la percentuale si abbasserà sicuramente è fondamentale ragazzi avere cercato di mantenere le percentuali più basse possibili quindi come vi dico di dare in prestito a cercare di dare in prestito sfruttare l'hype iniziale lo stesso modo vi dico ragionate ragionate sui giocatori vedete se quel giocatore vi serve per forza ha le caratteristiche che vi servono e capite se ne vale la pena mettere le percentuali giuste per poterlo tesserare quindi fate le vostre valutazioni perché poi alla fine fate uno sforzo in mane arrivate primi per poi magari portare a casa un briciolo di MFL alla fine il gioco potrebbe non valere la candela quindi cercate di sfruttare al massimo i giocatori che avete puntellate con qualche ingaggio dandovi un budget il secondo club il secondo club per me era un'idea e poi alla fine si è rivelata un'idea secondo me giusta il jingle nominata più volte che è praticamente la squadra farm MFL quindi squadra gestita totalmente da giocatori miei di proprietà e soltanto qualche giocatore circa qui stiamo parlando di circa il 15% circa di prestiti quindi veramente una cifra bassissima e l'obiettivo è molto più scarsa perché ci sono gli scarti che i giocatori che praticamente non ho scelto per interdigita quindi praticamente sono quelli meno forti quindi qui qualunque posizione va bene ero la penultima forse squadra più scarsa a livello di classifica di forza ero la penultima mi sono classificato quarto ultimo quindi già è stato un vantaggio sono arrivato ai quarti di finale di coppa quindi alla fine è stato un grande successo perché la maggior parte degli MFL vinti con Ginga perché me li sono portati a casa e quindi devo dire che è stato un successo questo questo ragazzi è stato il mio campionato la mia stagione 07 è stata l'analisi degli MFL vinti di come le ho vinti e di come ho sfruttato le due squadre ci saranno successivamente a questo ci saranno altri video in cui analizzerò nel dettaglio interdigital analizzerò nel dettaglio Ginga e analizzeremo altri dettagli per quanto riguarda stagione 07 guarderemo soprattutto la stagione 08 quindi restate sintonizzati se ricordatevi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale così la prossima i video che arrivano arriva la notifica e magari scrivete pure qui sotto come siete andati quanti MFL avete vinto e se non siete soddisfatti di iscrivere qui sotto venite anche su telegram dove c'è un topic dedicato a MFL in cui ci si confronta ci si aiuta e ci si scambiano mille idee giocatori mercato eccetera 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 ok quindi ragazzi grazie mille a tutti per aver seguito e per aver visto questo video buonasera a tutti da Domenico di Domi di Gira grazie a tutti Grazie a tutti.